Ragazze e ragazzi, ciao a tutti quanti. Sono ancora vivo ragazzi, sono ancora vivo. Perché in queste settimane Vespertili non è spuntato? Vespertili in queste settimane non è spuntato perché ho avuto tante cose da fare con la mia vita, con la vita vera. Quindi c'è un progettino che ho in mente ma non lo svelerò a nessuno, neanche a voi. Questo progetto probabilmente culminerà fra aprile e maggio. Ma adesso, come da titolo, siamo qui per vedere, cazzo, non me l'aspettavo, Capitan Tsubasa Anime 2018. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene ragazzi, bene. Dopo tutta la sfilza di anime degli anni 80 e 90 che hanno rifatto, fra i quali Sailor Moon e tante altre cose che non mi vengono in mente, a quanto pare stanno rifacendo Capitan Tsubasa. Capitan Tsubasa, cioè Holy, Holy, Holy e Benji. Vi rendete conto ragazzi? Se mi parte la risata siamo finiti. Capito ragazzi? Il 4, cioè April, April 2018 avremo non solo le nuove puntate di Food Wars stagione 3, perché l'ho visto anche questo, ma avremo il rifacimento del cartone di Capitan Tsubasa. Io qui mi alzo le mani, me ne lavo le mani e ci vediamo al prossimo video. Un bacetto ragazzi. Ah, e comunque ho ritagliato la maschera.